Buongiorno, Piero Pio Maria Adrioli, oggi è lunedì 7 novembre 2022. Oggi vi voglio raccontare che dal 1987, quando io ho avuto la fortuna di conoscere Luigi Gaspari, e man mano nel tempo ho capito veramente chi lui fosse, come vi dicevo nelle precedenti video, mentre Padre Pio aveva lo spirito di Giovanni Battista e del profeta Elia, e quindi lo rivedremo perché nel libro dell'Apocalisse è scritto che riapparirà Elia nel periodo dell'Anticristo, e Luigi Gaspari che era Davide, aveva lo spirito di Davide, di Giovanni e io anche di Enoch, perché vi parlavo della dottoressa Esther Maddaloni, che raccontava dell'apparizione di Luigi Gaspari nel 1999 a San Giovanni Rotondo, e gli parlò appunto del quaderno dell'amore, e lei scoprì dopo qualche mese che Luigi Gaspari era morto quattro anni prima nel 1995. Io dal 1987 appunto, da quando ho conosciuto Luigi Gaspari, che lavoro chiaramente in senso lato, perché non ho i diritti di questo libricino, e quindi lavoro per quello che posso fare, per la testimonianza che posso dare. Sono 35 anni appunto passati da quando ho conosciuto Luigi Gaspari, e vi assicuro che gli ostacoli contro questo libricino sono stati tanti e sono ancora tanti, però so che alla fine quella porta di ferro si aprirà, e il Signore vorrà finalmente farlo entrare nelle case di tutto il mondo. Volevo anche chiedere a tutti gli uomini di buona volontà, ma soprattutto gli uomini di buona volontà, e anche qualsiasi persona che avesse le possibilità per poter appunto divulgare in modo massiccio i quaderni dell'amore nel mondo, di fare questo sacrificio e affidarsi a Gesù, e essere generoso verso questa stampa che è importantissima per la salvezza del mondo. Volevo farvi vedere un pezzo del libro dell'Apocalisse di Dondolindo Ruotolo, dove appunto parla di questo libricino, e adesso vi faccio vedere innanzitutto il titolo, perché sappiate che questo è il libro. Vedete, è sempre il solito, l'Apocalisse di Dondolindo Ruotolo. A pagina 370, pagina 370, vedete, San Giovanni allora vede un libro e ha ordine di farne suo nutrimento, perché possa ancora profetizzare a molte genti, a popoli re. E qua chiaramente si parla del futuro, cioè di adesso, il periodo dell'Apocalisse. Questo libro misterioso che sta tra questi avvenimenti e che è dolce e amaro, è la parola di Dio e soprattutto la Sacra Scrittura, riportata alla Chiesa da un angelo, cioè da un messaggero di Dio, perché ridiventi cibo suo? Perché questo libricino deve essere cibo della Chiesa, deve tornare nelle mani della Chiesa. Dolcezza di sapore e amarezza di digestione e di assorbimento caratterizzano questo libro. Per la gioia con il quale ha ricevuto e per le amarezze della lotta che adesso si fa quando dalla sfera privata passa nel seno della Chiesa. Vedete, gli ostacoli che ci sono stati in questi 35 anni e ancora ci sono, ci dice proprio che che ha sapore di amarezza e allo stesso tempo è dolce come il miele. E la gioia, adesso si fa, è la maledezza della lotta, è per la gioia con la quale è ricevuto, perché poi alla fine tornerà nelle mani della Chiesa e questa sarà la grande gioia che porterà appunto la salvezza nel mondo, portando il grande rinovellamento della Chiesa. vedete, poi dice il libro per le amarezze della lotta che adesso si fa quando dalla sfera privata passa nel seno della Chiesa. Perché dalla sfera privata? Perché l'ha scritto un laico, che è Luigi Gaspari, un laico come noi, ma deve tornare nelle mani della Chiesa perché ridimenti cibo suo. Il libro, pur essendo stato divorato ed essendo stato trovato amaro, non è rigettato, perché con tutte le cose, le cavattivere che gli hanno fatto a Luigi Gaspari e tutti gli ostacoli che ancora ci sono, preghiamo perché questi ostacoli cadano, che si apra con la porta di ferro, tutti questi ostacoli, appunto, pur essendo trovato amaro, non è rigettato, perché non è, l'hanno ostacolato fino adesso, ma cosa vuol dire che non è rigettato? Che adesso è arrivato il momento di farlo conoscere. L'amarezza della digestione passa, perché poi passa, e assorbito diventa vita delle anime, suscita una nuovella vita ed ecco la misura del santuario dell'altare e la mancata e la mancata misura dell'atrio delle genti. Cioè, ecco una distinzione netta tra i veri cristiani e mondani. Ecco preparato l'ambiente del regno di Dio e del trionfo della Chiesa in terra. Ecco i due testimoni che lo realizzano con l'attività del loro apostolato. Questo libricino non è rigettato, è dolce e amaro. Vi voglio far vedere un'altra pagina del libro dell'Apocalisse. Adesso non trovo quello che volevo leggere. Ecco di Enoch e Eliak la terra. Vedete? Dio parla improvvisamente, indicano due grandi luminari che rifulgeranno nella sesta epoca della vita della Chiesa. Quindi noi siamo nella sesta epoca. Alla settima ci sarà la fine del mondo, ma dopo la sesta ci saranno i famosi mille anni di grande amore e gioia sulla terra, la nuova era. Vedete? Nella sesta epoca della vita della Chiesa che combatteranno contro le genti conculcatrici della Città Santa e indicano Enoch e Elia, i quali a testimonianza di tutti i padri, riappariranno sulla terra improvvisamente al tempo dell'Anticristo per combattere contro di lui e sostenere i fedeli della tremenda persecuzione ed egli scatenerà contro di loro. Sono due periodi che bisogna ben distinguere per capire il misterioso significato del Sacro Testo. Vi voglio raccontare di un sogno che ho fatto appunto l'anno scorso, ma bene avevo già parlato, che ho sognato che mi hanno portato la salma di Padre Pio e questa persona che me l'ha portato, che io non vedevo, ma sentivo che parlava, ha detto, mi ha detto, senza nominare il nome, però probabilmente si riferiva a Padre Pio che si mi ha portato la salma, ha detto che resusciterà a Pasqua. Quindi questo è Elia che deve ritornare e riapparire. Enoch, che secondo me è Giovanni stesso e Luigi Gaspari, perché lui era Davide e Giovanni, ritornando al discorso dell'Ester Maddaloni, quando gli ha parlato e ha guarito il figlio, che subito dopo che questa persona che aveva incontrato San Giovanni Rotondo si è riferito al figlio malato, gli ha detto, vedrai che tu guarirai e hai un problema all'occhio, ma guarirai. Difatti poi è guarito praticamente poche ore dopo. E gli ha detto, e un giorno mi rivedrai e mi riconoscerai. riconoscerai. Ecco e no, la riapparizione di lui. Per la salvezza di tutti noi contro l'Anticristo. Quindi aspettiamoci, magari chiaramente non li vedranno tutti, ma alcuni di noi probabilmente riusciranno a vederli. loro sono già qua, loro sono già qua, perché Luigi Gaspari, vi racconto quello che ho sognato nel maggio di 2019, mi sembra. Mi ricordo se ero andato prima a Fatima o ero già tornato, sognai a San Giovanni Rotondo padre Pio, giovane, sulla Cinquantina, in distanza, sulla piazza, la piazza del convento e parlava con delle persone e io dentro di me dicevo ma adesso voglio andare da lui, chissà se mi riconosce, visto come a Luigi che quando mi ha visto l'ultima volta avevo nove anni. A un certo punto mi sono riavvicinato a lui ed era per terra e mi ha detto ah Piero, non ci vedo più ed ero guancia a guancia su di lui, sopra di lui. In quel momento quando mi ha detto così ho capito che mi aveva riconosciuto e io gli ho detto ah padre Pio e mi sono svegliato, contentissimo, ma quel non ci vedo più è perché lui è arrabbiato con qualcuno e con qualcosa, non ci vedo più, non mi vengono, non mi stanno più dietro, non dicono più la verità, a causa di Dio denaro non fanno la volontà di Dio e subito dopo, la settimana dopo, sognai Luigi Gaspari con il suo accento emiliano, mi ha detto ah Piero sono tornato e io lo so che sono tornati e presto li rivedremo. Li rivedremo per la nostra salvezza e la salvezza del mondo e molto probabilmente quando il quaderno dell'amore partirà, perché adesso partirà e nessuno lo fermerà, perché quando il Signore parte, quando lo Spirito Santo parte, guai a chi si mette di mezzo, chi si mette contro lo Spirito Santo muore. Vi voglio raccontare una cosa che Luigi Gaspari ha raccontato più volte. Quando è morta sua mamma, erano in diversi fratelli e quindi la mamma gli aveva lasciato, i genitori gli avevano lasciato la casa di Cesenatico a Luigi Gaspari, a lui. Bene, parte dei fratelli si misero di traverso perché volevano quella casa e addirittura andarono per giudici. Andarono in tribunale. Non scandalizziamoci, lo sappiamo che succedono queste cose grazie al maligno che ci mette sempre il bastone nelle ruote in tutti i sensi che vuol distruggere le famiglie. Quando muoiono queste persone importanti poi alla fine si scatena quell'altro. Bene, il primo giudice voleva portargli via la casa è morto. Il secondo giudice voleva portargli via la casa è morto anche lui. Il terzo giudice cosa ha fatto? No, no. La casa è sua. Dottor Gaspari la casa è sua. Ecco perché quando ci si mette Padre Pio gli aveva detto perché Luigi Gaspari voleva lasciarla con la casa ai fratelli quando ha visto che appunto si erano messi di traverso è andato da Padre Pio a dirgli appunto che quella casa lui a quella casa voleva rinunciare. Sapete cosa gli ha detto Padre Pio? Guai a te lo Spirito Santo ha fidato a te quella casa e chi si mette contro lo Spirito Santo muore. Bene quella casa era stata fidata a lui perché poi in quella casa appunto lui avrebbe ospitato tanta gente e avrebbe parlato del quaderno e spiegato ancora e probabilmente dovrebbe con la casa rimarrà un emblema del quaderno dell'amore perché chissà magari tanti tra non molto visiteranno quella casa perché avranno capito l'importanza di quest'uomo che è un santo ma era un santo prima di nascere e la Chiesa chiaramente non l'ha riconosciuto come tanti altri santi che sono santi ma la Chiesa non sa neanche che esistano. Bene adesso volevo leggervi anche una cosa molto simpatica di uno scritto che ha fatto Luigi Gasper che è anche un poeta se volete e aveva previsto delle cose molto belle vi faccio vedere qui è datata Bologna 3 ottobre 1974 l'ottobre italiano ha preso la mano del villano per farlo sovrano e il villano probabilmente chi è? è colui che ci rende schiavo perché noi in questa purtroppo Italia siamo schiavi di qualcuno che è all'oscuro di noi anche se possiamo capire qualcosa di tutto ciò e ci sta praticamente manipolando nella stretta di mano di un villano che ha tolto di mano lo scettro sovrano al vero sovrano dei sovrani gentili italiani che siamo noi i veri sovrani ricordo lontano di un popolo sovrano una volta eravamo sovrani adesso siamo sotto la schiavitù fatto servo dei servi italiani ricordo lontano di un popolo sovrano fatto servo dei servi italiani e coloro che soprattutto quelli che ci hanno governato ultimamente sono anche loro servi di coloro che stanno manovrando tutto e noi siamo servi dei servi addio sovranità all'italianità addio verità dell'itala beltà una volta l'Italia era una cosa bellissima e adesso vedete in che stato siamo tutto svanirà nella realtà di perduta sovranità l'Italia piangerà ti dice il tuo papà la sua venduta sovranità noi piangeremo per la nostra per aver venduto la sovranità tutti piangeranno l'odierno grande inganno e questo grande inganno cosa può essere forse quello che abbiamo vissuto negli ultimi due anni di una cosa che ci hanno fatto credere che avrebbe salvato la vita tanta gente invece poi alla fine sono morti e non è servito a niente non è servito a niente perché non è stato neanche testato tutto svanirà nella realtà di perduta sovranità l'Italia piangerà la sua venduta tutti piangeranno l'eterno grande inganno tutti poi vorrà riparare il danno che a tutti farà danno e gran malanno cercheranno tutti di riparare questo danno che avrà fatto danno a tutti ma l'anno di questo inganno farà forte lo stranier tiranno purtroppo tutti questi inganni farà forte colui che probabilmente è l'anticristo sovrano di ogni inganno tiranno lo stranier tiranno sovrano quindi aspettiamoci aspettiamoci che fra poco il cavallo di Troia che ci stiamo portando in casa agisca per quello che deve fare in vano si impicca colui che per ripicca tradì per un'accesa cieca in vano l'inganno americano ha messo in tasca la mano per par gentile il villano capito da dove arriva il problema che già tradito al sovrano popolo italiano e non vado avanti qualcuno abbia capito e quindi affidiamoci a Gesù perché fra poco sappiamo che ci sarà la lotta definitiva e come dice il don dolindo ruotolo insieme all'anticristo anche il quaderno dell'amore praticamente il quaderno dell'amore dividerà i buoni dai cattivi ci sarà questa il signore metterà a sinistra i cattivi e a destra questa non è politica e a destra i buoni quindi c'è la divisione e noi preghiamo affinché anche i nostri cari tutti quelli che anche che pensiamo che ce ne abbiano fatto di cotta di crude però magari sono innocenti davanti a Dio preghiamo per loro per la loro conversione per la loro salvezza io adesso vi lascio che il signore ci benedica pregate per me perché ho molti ostacoli davanti e molta sofferenza e allo stesso tempo molte difficoltà personali quindi pregate per me io prego per tutti voi vi abbraccio e che il signore ci benedica tutti insieme alla madonna e ai santi grazie mille buona giornata grazie mille grazie mille